Siamo in una situazione non tanto piacevole per la nostra società di pallavolo perché la pallavolo è uno sport che convolge tanti ragazzi che comunque ci mettono tanta passione mi sono accorto che, mi sono avvicinato da poco a questo sport devo dire che convolge tanto, tanto, tanto tutti questi ragazzi che sono qui con me, non sono ovviamente tutta la società ne mancano tanti e mi hanno raccontato storie non tanto positive e bambini che purtroppo si sono messi a piangere per dei problemi che hanno convolto proprio questo nostro palazzetto ci hanno tolto una struttura che forse è l'unica funzionante nella nostra città e devo dire che da atleta di pallavolo non mi trovo tanto bene perché mi sento privato di un mio diritto, di un mio dovere che è quello di allenarmi per lo sport che amo non so veramente cosa potremmo fare e io confido nell'aiuto di chi sta sopra di noi che i superiori ci possono aiutare quindi tutti quanti siamo qui riuniti per fare un appello a chi è sopra di noi